All'inizio dell'Avvento ho suggerito, attraverso un editoriale di Voce Isontina, di fare tutti comunque il presepe, di non rinunciare a festeggiare quindi il Natale e prima a prepararsi al Natale nonostante la pandemia. Nel presepe però c'è un personaggio che di solito viene sostanzialmente ignorato. Certamente c'è Gesù Bambino, c'è Maria, gli Angeli, i Pastori, tanti altri personaggi, ma c'è anche San Giuseppe. San Giuseppe che però appunto molte volte viene così in qualche maniera trascurato, forse perché è silenzioso, forse perché è solo il padre cosiddetto putativo di Gesù. Invece è una figura davvero importante e Papa Francesco ce ne ha parlato proprio di recente, soprattutto per la sua capacità di essere custode di Gesù, di essere la persona che rappresenta quell'attenzione che Dio ha verso ciascuno di noi. Ecco, penso che in questo momento di difficoltà sentirci custoditi è una cosa molto importante, però anche in qualche maniera essere anche noi custodi degli altri, essere persone che danno fiducia alle persone perché trovano fiducia nel Signore, persone che sanno amare perché si sentono amati, chiedendo anche, come suggerisce Papa Francesco, l'intercessione di San Giuseppe. Grazie e cari auguri a tutti e alle vostre famiglie.